...delle persone che prima di tutto, permettimi di dire, non è falsa modesta ma trascendono i miei meriti reali ma comunque credo che forse se avessi vinto il Gran Premio di Formula 1 anche con la Ferrari non sarei riuscito a farmi voler bene così come invece è accaduto vincendo le due medaglie paralimpiche a Londra grazie per tutto questo, grazie di essere qui oggi, rappresentanti anche di tutte quelle persone che mi fermano ogni giorno per la strada e mi toccano quasi commosse come dire, ma sei vero o è tutta una montatura? no, sono io, però in realtà, voglio dire, se ho fatto ciò che ho fatto è perché era tecnicamente fattibile non è che ci sia una qualche ricetta segreta, è assolutamente esagerato parlare di miracoli o di cose incredibili amo la bicicletta, mi piace andare in bicicletta, fortunatamente ho scoperto anche di essere tagliato per questo tipo di esercizio e i risultati sono arrivati con una logica conseguenza no, nel libro sono